E la filosofia ci dice che la morte è la fine della vita, ossia è la estinzione del principio vitale del corpo, quel principio vitale che la tradizione filosofica occidentale ha sempre definito anima. E qui bisogna dissipare un secondo luogo comune, l'idea che parlare di anima sia una questione di fede religiosa. L'esistenza dell'anima non è una scelta di fede, può essere dimostrata dalla regione. Ben prima del cristianesimo i romani e i greci, gli ebrei e gli egiziani credevano nell'esistenza dell'anima che etimologicamente si collega ad anemos, vento, soffio vivificante, respiro vitale. E la tradizione filosofica a cui la civiltà occidentale nel corso dei secoli ha uniformato la sua morale e il suo diritto è quella secondo cui l'uomo, composto di corpo e di anima, ha nell'anima razionale il principio vivificante vitale che lo specifica. Questo principio vitale è nel corpo ma non è una parte del corpo, non è sangue, cervello, respiro. Esso nelle parole di Aristotele è ciò per cui primieramente viviamo, sentiamo e pensiamo o più precisamente sempre secondo Aristotele nel de anima la prima perfezione di un corpo naturale organico. In questa prospettiva la vita umana inizia con l'infusione dell'anima nel corpo e si conclude con la sua separazione da esso quando il corpo si dissolve nei suoi elementi. E l'animazione, ossia la presenza di un principio vitale che anima il corpo materiale, non è solo prerogativa degli uomini ma è prerogativa di ogni essere vivente. Perché la vita della pianta, dell'animale e dell'uomo anche, pur di natura diversa, presuppone in ogni caso un sistema integrato, animato da un principio attivo e unificatore che ne dirige l'attività. La morte dell'individuo vivente sul piano biologico è il momento in cui il principio vitale che gli è proprio cessa le sue funzioni. Ciò che le piante, gli animali e gli uomini hanno in comune è la vita. Questa vita è di natura e di qualità diversa. Il principio vitale degli uomini, a differenza di quello degli altri esseri animati, è di natura razionale. L'uomo ha un'anima razionale qualitativamente diversa dall'anima vegetativa delle piante e dall'anima sensitiva degli animali. La morte umana non è la fine dell'anima che è spirituale e incorruttibile ma la sua separazione dal corpo che è materiale e quindi corruttibile. Ora lasciamo da parte il fatto che per l'essere umano questo principio vitale definito anima sia di natura razionale e quindi spirituale. Quello che è certo è che se la vita biologica è una totalità di funzioni coordinate da un principio unificatore, l'uomo può dirsi clinicamente morto quando il principio che lo vivifica si è spento, si è estinto e l'organismo privato di questo centro coordinatore inizia il processo di disgregazione delle funzioni che ne compongono insieme. Ebbene la scienza non ha finora potuto dimostrare che il centro coordinatore dell'organismo umano risieda in alcun organo del corpo. Le attività cerebrali costituiscono un sistema biologico che ha un centro ma non è dimostrato che esso sia il principio vitale di tutto l'organismo umano. Il sistema integratore del corpo infatti non è localizzabile in un singolo organo, sia pure importante come l'encefalo. E questo anche perché non bisogna confondere le attività con il loro principio. La vita è qualcosa di inafferrabile che trascende i singoli organi materiali dell'essere animato e che non può essere misurata materialmente, tantomeno creata materialmente. È un mistero su cui è giusto che la scienza indaghi ma di cui la scienza non è padrona se non vuole farsi scientismo. Chi assume il criterio scientifico della morte cerebrale assume implicitamente il criterio filosofico materialista secondo cui il principio vitale dell'uomo non è spirituale ma corporeo o nel migliore dei casi accetta il dualismo cartesiano secondo cui anima e corpo sono due sostanze separate regolate da leggi diverse. Quando anche in sede autorevole si afferma che nell'individuo umano vi è un organo unitario, il cervello che ha il ruolo di dirigere, coordinare e integrare le attività di tutto il corpo e un altro organo, l'anima, che ha il compito di assicurare l'unità ontologica dell'organismo, si fa proprio quel parallelismo cartesiano tra anima e corpo che è stato confutato sia dalla biologia che dalla filosofia. A questa concezione cefalocentrica si oppone la concezione tradizionale secondo cui il vincolo che unisce l'anima e il corpo non è estrinseco e superficiale ma intimo e profondo. L'anima forma sostanziale del corpo riceve l'atto di essere in sé per prima e lo comunica al corpo quando questo è stato generato. La stessa anima quando il corpo non è più in grado di farle da soggetto e da potenza ritiene l'atto di essere che gli aveva comunicato e continua nell'essere assumendo altre forme di vita. Occorrerebbe dimostrare che nel momento della lesione cerebrale l'anima sottrae al corpo l'atto di essere. Ma l'evidenza prova tutto il contrario. Il paziente in coma irreversibile ha perso tutte le sue facoltà e funzioni ma non l'atto per cui egli ancora è. Ma c'è anche accanto a questa dimensione filosofica una dimensione etica del dibattito che è distinta da quella scientifica e filosofica. E su questo piano il principio in dubbio provita resta centrale. La vita inizia quando Dio infonde l'anima nel corpo e finisce quando il corpo si separa dall'anima. La Chiesa definisce questi due momenti come concepimento e morte naturale e afferma con chiarezza che nessuno e niente può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, paziente in stato vegetativo o cerebroleso, ammalato, incurabile o agonizzante. Nessuno può richiedere questo gesto in se stesso o omicida per sé o per un altro affidato alla sua responsabilità. Ne può consentirvi esplicitamente o implicitamente. Queste le parole della dichiarazione sull'eutanasia della congregazione per la dottrina della fede. Ebbene nel suo discorso del 7 novembre 2008 ai partecipanti al congresso sulla donazione di organi promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, Benedetto XVI ha ricordato che gli organi umani da trapiantare possono essere prelevati solo ex cadavere e la scienza deve ulteriormente progredire sull'accertamento della morte in modo che non rimanga il minimo sospetto di arbitrio. La scienza in questi anni, ha detto il Papa, ha compiuto ulteriori progressi nell'accertare la morte del paziente. Ebbene quindi che i risultati ottenuti raggiungano il consenso dell'intera comunità scientifica, così da favorire la ricerca di soluzioni che diano certezza a tutti. In un ambito come questo infatti, ha detto ancora il Pontefice, non può esserci il minimo sospetto di arbitrio e dove la certezza non fosse raggiunta deve prevalere il principio di precauzione. Ebbene sulla morte cerebrale non esiste l'intero consenso dell'umanità scientifica e nessuno può imporla come una verità scientifica assoluta. La caratteristica della scienza moderna è di essere una scienza ipotetica, essa formula soltanto ipotesi valide fino a prova contraria. L'ipotesi della morte cerebrale a 40 anni risale all'anno delle rivoluzioni, il fatidico 68. Non è un dogma scientifico. I progressi scientifici di questi 40 anni stimolano nuove riflessioni. Il nostro incontro di oggi vuole dare voce a queste riflessioni provenienti dalle più diverse discipline del sapere, ricordando le parole del Papa secondo cui dove la certezza non fosse raggiunta deve prevalere il principio di precauzione. Grazie.